Ottimismo, ma anche un pizzico di cautela, perché se sul cessate il fuoco Putin e Poroshenko si sono trovati alla fine totalmente in sintonia, il presidente ucraino ha fatto sapere che c'è ancora parecchio lavoro da fare. Posso affermare che l'accordo più importante che abbiamo raggiunto è che dalla mezzanotte del 15 di febbraio dovrà entrare in vigore il cessate il fuoco senza condizioni. Step successivo. Entro 19 giorni tutti i detenuti dovranno essere rilasciati. Perché il 19? Perché si avranno 14 giorni per il ritiro dell'artiglieria pesante, 5 per completare il ritiro totale di militari e quindi il rilascio finale di tutti gli ostaggi. Su un punto poi Poroshenko è stato chiarissimo, no alla richiesta di concedere uno statuto federalista né di autonomia per le regioni nell'est del paese, rivendicate dai ribelli separatisti filorussi. Grazie. 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 Grazie.